Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della stone block della serie delle sette allora ho rimesso a posto tutto il macello che avevo combinato nello scorso episodio bene o male non è precisamente come era prima ma ci accontentiamo nel senso qui magari c'è un doppio utilizzo di questi ma spostare 85.000 pezzi di uno di qua solo perché più vicino lo sarebbe un po scomodo forse come dovrebbe mettere tipo no il carbone neanche insomma per fare il cambio di scheda di memoria ho fatto un casino incredibile e alla fine ho lasciato qui con la 256k e quando riuscirò a svuotare questi bene e e niente cioè per svuotare dove svuotarli qua dentro per che poi li levo dai bar quindi è un po un casino in effetti forse raggiungere un altro e mi drive e mettere in quello solamente robe da grosse tipo la 256 e così via ad ogni modo come vedete ho rotto qui dei pezzi di marble perché già che ci sono voglio aggiungere degli altri barili li andiamo a craftare gli item barrel è già qua tutto pronto facciamo 1 2 3 ho finito gli slab incredibile andiamo a craftare degli no no mi serve uno slab normale non mi fa campione ma non ho legno ce l'ho il legno va bene a quanto pare non gli stavo simpatico allora ci facciamo un altro di questi sono 4 prima di fare qualsiasi cosa facciamo anche così leviamo anche questi mettiamo prima i conduit perché giustamente dovremmo collegarli anzi scaviamo qua dietro e poi andremo a mettere i conduit prima piazziamo item barrel e ci mettiamo dentro ciò che vogliamo conservare perché attenti poi si inizia a collegare a caso allora in una sicuramente le cobweb perché sono tante le cobweb e poi mi piacerebbe mettere i trofei perché sono cioè non sono tanti però occupano un botto di spazio occupano davvero un botto di spazio io non ne avevo da parte no mi sa che non ne ho più messi da parte cos'altro occupa davvero tanto spazio ci sono le patate le carote no neanche carote no ci sono le patate i pezzi di pollo ma non è neanche così tanta roba sono davvero tutti sti trofei che mi danno fastidio allora prendiamo skeleton trophy zombie trophy ne posiamo uno lì uno lì ho uno spazio per un altro tipo di trofeo e ci mettiamo ok in realtà potrei mettere forse anche altri barili però per il momento questi ci vanno bene quindi andiamo a prendere i nostri conduit anche se me ne avanzano solamente 5 quindi lo prof tranne altri e facciamo così e li mettiamo in insert green always active così inizia a riempirsi ottimo stessa roba in tutti gli altri ovviamente non è extract ma insert tutto in insert perfetto dovrebbe funzionare dovrebbe riempirsi piano piano tutte le cose che abbiamo qua dentro giusto ci servirebbe anche uno per i creeper in realtà ci servirebbe un botto di roba cioè dovremmo avere tipo un crate più grande per fare tutta sta roba oh infinity booster card di lusso ma infatti se provassi a mettere un medium storage crate anzi se riuscisse a fare un altro large storage crate cioè è vero devo fare i 4 empowered void crystal che è un po' un casino perché è lunga come roba però poi ho tre pagine no no forse è peggio potrebbe essere peggio signore e signori perché se ho una cesta più grande e la tralascio per troppo tempo poi diventa davvero problematico doverla svuotare cioè come fai non ce la fai non ce la fai lasceremo così allora riprendiamo il nostro marble e andiamo a chiudere qui per il momento poi magari un altro giorno aggiungeremo altri tipi di cose anche qua dietro magari mettiamoci del marble che non mi sembra una pessima idea e anche là dietro perfetto ho finito il marble alla grandissima signore e signori cosa faremo in questo episodio allora in tantissime tessuri fai il questo fai quello e sto parlando degli oggetti che manipolano il tempo ne abbiamo due in particolare che mi state spammando come se non ci fossero tipo non lo so delle cose domani non c'è un domani aspetta su di fai per forza questo se non moriamo tutti questo è il livello allora il primo è time in a battle che è questo cosa qui c'è anche il watch of flowing time ma questo si fa con la dark metal red metal block è un po più complicato perché devo entrare nella moda della project t che è complicata perché bisogno del del fiatone di drago insomma del respiro di drago un po' un casino però questo invece è molto semplice possiamo craftarlo il time in a bottle quindi direi facciamoci allora vediamo se ce l'ho già uno di questi c'ho già tutto perfetto time in a bottle ce l'ho cos'è questa roba? allora se non ricordo male quello che mi avete spiegato lui condensa il tempo che io spendo all'interno del gioco in questa bottiglia e cliccando col destro poi posso rilasciarla giusto? ok a seconda di quanti secondi ho messo da parte posso accelerare un blocco ad esempio se clicco col destro vedete è comparsa questa piccola stellina e per 30 secondi questo blocco deve andare più veloce non so se noto davvero la differenza però qui mi aveva zerato i secondi da parte vediamo se quando finisce dovrebbe durare 30 secondi quando finisce dovremmo notare un caldo di velocità potenzialmente non lo so sinceramente magari non funziona con tutte le mod magari ci sono alcuni blocchi su cui funziona meglio di altri magari funziona tantissimo ok non è vero ho notato il caldo di velocità l'ho notato tanto ok quindi il time in a battle è utile ora purtroppo utilizza solamente il tempo di gioco quindi è passato un minuto da quando ho fatto il click ottimo vuol dire che questo minuto bene nel senso è utile ma secondo me ci sono oggetti più potenti ad esempio il secondo oggetto che mi avete elencato in tantissimi che si chiama imaginary block time block questo qui che è un po' più complicato da craftare abbiamo bisogno anche delle nether star ma per fortuna abbiamo la farm quindi non è un problema ci sono degli oggetti da craftare della quantum flux una moda che io non ho mai visto prima infatti prima di fare qualsiasi cosa andiamo a vedere quantum flux andiamo a vedere cosa ci offre ci sono dei dischi advanced circuit ci sono anche dei macchinari cioè vabbè il time block è quello che faremo ora point extractor non so cosa sia acceleratore di entropia ok sembra una cosa abbastanza interessanti ma questo cluster cosa sono il tipo delle batterie darkstone lamp ci sono delle cose che sembrano carucce ok carucce perlomeno però il fatto che per craftare alcune di queste cose ci sia bisogno delle nether star mi fa anche capire che potenzialmente è una mod potente potenzialmente sì perché altrimenti non si spiega allora detto questo allora dobbiamo craftare l'imaginary time block in teoria abbiamo bisogno di fare diverse cose tra cui la darkstone allora craftiamo 16 pezzi di darkstone e vediamo che cosa fare questo per fare questo devo orca vacca no complicata sta roba diamine siamo calmi allora craftiamo un po' di questi ne facciamo 5 ho potuto fare 5 mi sembra onesto più o meno un po' complicata la situa allora devo fare uno di livello 3 per fare uno di livello 3 ho bisogno di 4 di livello 2 per fare 4 di livello 2 ho bisogno di 16 di livello 1 facciamo 16 di questi quindi ho bisogno sai che questo sarebbe davvero bello da mettere in autocrafting? spero che potenzialmente me ne serve no è vero me ne serve solamente uno perché spiecare dei pattern così allora se la matematica è una opinione avrò bisogno di tipo 48 di questi no ok hanno fatti due in più 48 di questi ma non solo anche 48 di questi quindi facciamo 48 anche di questi perfetto e ora posso craftare il tier 1 che è un inizio per lo meno ok me ne servirebbero 16 a rigor di logica ok ottimo ora facciamo il tier 2 me ne servono 4 1,2,3,4 e ora posso fare il tier 3 giusto? giustissimo e ci siamo poi ho bisogno di un altro paio di questi ma il quibit crystal dovrei averlo facciamo un altro paio di questi 4 e dovremo essere a cavallo giusto? eccoci qua immaginare i time block come funziona? allora prima vado a piazzarlo e vediamo ha bisogno di energia per funzionare ok fin qua ci siamo proviamo a collegarlo ad esempio qui l'energia qua ce l'abbiamo se io lo collego vediamo che riceve l'energia va più veloce questa macchina? a me oddio sai che sembra andare più veloce prima vado a batterlo vediamo se vediamo un calo vediamo un calo si vediamo oddio non lo so si 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 no 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 c'è assolutamente un calo grande immaginare i time block se lo metto qui vicino al garden cloche vorrei se lo piazzassi qui a caso anzi piazziamolo qui va più veloce anche il garden cloche? allora secondo me il garden cloche non viene diciamo cambiato dall'immaginare i time block perché non vedo una differenza ad esempio tra questi e questi mi sembra comunque andare abbastanza veloce cioè però una velocità normalissima nulla nulla di troppo complicato quindi andiamo a vedere nella wiki l'immaginare i time block cosa mi dice? se funziona sul blocco potenzialmente funziona tipo sugli ortaggi immagino ok la descrizione ufficiale dell'immaginare i time block è che serve solamente per i i crop quindi se io lo piazzo qui e lo collego all'energia questo andrà molto più veloce allo stesso modo mettiamo caso io volessi prendere questo inferium seed di livello 5 e lo vado a mettere su un pezzo di terra che al momento non ho perché non ce l'ho prendiamo un pezzo di terra quindi facciamo dirt prendiamo anche la O così possiamo farmare questo pezzo di dirt ora posso metterlo qui perché questo funziona come se fosse acqua mettendolo qui io posso mettere il mio immaginare i time block qua sopra e vedete che va molto più veloce cresce clicco col destro prendo i miei 5 pezzi e potenzialmente non abbiamo bisogno neanche di utilizzare il super sistema dell'acceleration wand è una roba diversa sicuramente questo mi avete detto che l'avete visto da marcus quindi grazie marcus per il suggerimento in diretto e diciamo che è potente soprattutto perché non funziona solamente su uno funziona su tutto un array di crop quindi se io faccio tutta una serie di inferium seed da 5 con un raccoglitore automatico con l'harvester posso fare una bella operazione di raccolta ho fatto più di uno stack in davvero neanche un minuto tutto questo il mio termina bottle sta continuando ad andare grande termina bottle e posso mettere da parte tutto questo e mi ritrovo con 16.000 di inferium che è tanta roba con il fatto che funziona solo con i crop mi sta venendo una mezza voglia di fare una farm dedicata potrebbe avere senso è vero i garden crush sono utili perché è tutto automatizzato è un sistema chiuso però la potenza dell'immaginari time block visto che l'energia per noi non è un problema potrebbe essere una cosa interessante allora ultima cosa che voglio fare prima di abbandonarvi tra virgolette è allora craftare un po' di awakened draconium block ne voglio fare un po' quanti ne posso fare? 1 2 3 posso farne 3 va bene 4 posso farne 4 facciamo anche il contrario prendiamo uno di questi e trasformiamo tutti me lo fa fare? me lo fa fare? non me lo fa fare ok si me lo fa fare solo che ci mette un po' a calcolare quanto effettivamente ho messo da parte craftiamo un bordello di awakened draconium ingot ok è un po' lento a far ok l'ho fatto tutti ho 1200 di questi è solo un po' lento a decifrarlo ok perché mi avete detto che se questo qui il super itine element mi dà un 60x se ci metto l'awaken draconium mi dà un 120 la faccero cazzo posso dirlo 120 120 è tanto signori 120 è tanto vuol dire che produco ancora più lava non ne ho bisogno perché già questi erano tutti pieni e altamente funzionanti però è una cosa figa anche solo da vedere quindi craftiamo gli altri 3 questi awakened draconium block 1 2 3 e li mettiamo qui è un cambio anche di design anche se questo era un multi block quindi era figo da vedere questi sono rosso fuoco quindi ti dà proprio poi c'è il cuore di drago pulsante che poca vacca è proprio fighissimo teniamo un botto di lava forse troppa a dirla tutta sarebbe figo mettere tipo un tank sarebbe fighissimo mettere un tank che è grande come questa parete che si riempie della lava ad eccesso facciamolo instant tank c'è un tank multicomponibile facciamo una prova proviamo a craftare un paio di questi non ho l'ossidiana ottimo potremmo craftare uno di questi che è un ignus extruder che cos'è che cos'è di bello aggiungerei è un oggetto che ci permette di craftare la lava inserendo acqua e lava a me va benissimo io lo faccio molto volentieri quindi facciamo il team gear andiamo a ripescarci ma è un po' un casino in effetti cerchiamo che facciamo prima ignus extruder ok eccolo qua ok abbiamo l'ignus extruder lo piazziamo non ho più minima idea dove pazzo non ce n'è più praticamente questo ci serve? ma in realtà si ci serve tutto non è che posso spaccare cose a caso mettiamo no perché bisogna anche di mettere input e output bisogna di inserire della lava delle cose oh mamma mia e qui c'è la generazione della lava per il momento lo metteremo qui ci serve solo per ottenere della non del basalto ma dell'ossidiana ok mettiamo a sinistra l'input damn super fast ha bisogno anche di energia ma l'energia non è un problema facciamo così mettiamolo tipo qui così possiamo collegare sia l'energia che la lava non mi sembra una cosa stupida l'energia c'è abbiamo bisogno solo di un input d'acqua sarebbe interessante prendere gli endertank perché io ne ho diversi sono abbastanza eccole qua ne ho due li piazziamo e gli cambiamo il colore ok quindi prendiamo un colorante ad esempio il colorante nero no azzurrino azzurrino va bene uguale lo piazziamo ad esempio in quello centrale di entrambi così cambiano modalità ne prendiamo uno e due uno lo inseriamo qui che riceve anche l'acqua quindi lo mettiamo tipo così in input in in anche funziona ok speravo fosse leggermente più veloce a dirla tutta non mettiamolo qui è troppo lento il tipo di cavo che sto utilizzando ridammelo lo andiamo a piazzare invece dall'altra parte dove ho messo questi qua che questo è molto più veloce di lusso e andiamo a piazzarlo in output invece sopra quel blocco lì siamo contenti in output e ora funziona e abbiamo non il basalto non voglio voglio la ossidiana mannaggia te ora che mi sta dando l'ossidiana posso provare finalmente a cercare il tank e vedere se me lo fa fare cioè quello che voglio fare io cioè combinarli se io faccio un buco qui e metto uno e una due mi diventa unico se lo metto al lato è un tank unico non lo so perché ho così tanti secchietti nell'inventario bella domanda se io prendo un secchio d'acqua me lo metto solamente lì diamine diamine ragazzi quindi non si può fare una roba a multiblocco è un peccato cioè così si me lo fa fare e ci sarebbe anche quello della ender io quanto ne può contenere ah no questo è portable no io non lo voglio portable voglio cattivo cattivissimo proviamo a craftare un paio anche di questi vediamo se si uniscono faccio così no sono proprio separati questi sono proprio cazzuti come se fosse un macchinario però mettiamo caso che io volessi fare ad esempio un paio di questi qua ok quindi posiamo queste cose che sono inutili posiamo questo posiamo questo posiamo tutto rifacciamo alcuni di questi ne facciamo un po' ho finito il vetro ottimo voglio fare le pareti ok quindi diciamo che voglio fare questo è bello da vedere magari non su tutte magari alternando 1 2 1 2 1 2 e le colleghiamo come le colleghiamo con tutta una serie di cavi veramente pressurizzati anzi potremmo farlo da qui no perché questo è in input non in output ok ho 19 tank ok non ho paura di usarli anche se non si collegano tra vicenda mannaggia sarebbe così figo se si potessero collegare allora mettiamone uno un blocco si e un blocco no e vediamo cosa riusciamo a fare 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 e qua me ne mancano 5 ma noi li craftiamo perché mi mancava l'ossidiana ma qua ci sarà uno stack quasi ormai infatti ok l'ho fatto anche uno in più guarda un po' te ora mi mancano i conduit binder quindi li cuociamo un attimino al volo tanto è abbastanza easy e andiamo a craftare un altro po' di quelli pressurizzati grazie merci ok 24 mi sembrano più che sufficienti ora quello che faremo è prendere un cavo che da qui in alto sale 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 mi piacerebbe farlo entrare nel soffitto mi fa una cosa 1 2 3 4 5 6 e da qui si fa il viaggio e va da tutte le parti così riempiamo tutti i tank dietro viene una figata pazzesca raga se ce la facciamo a volare grazie non mi fa volare 1 2 3 4 5 ovviamente teniamo se input che output così se serve della lava la prendiamo da questi tank mi sembra giusto mettiamo tutto always active se no qua non funziona più niente mi fai volare ora colleghiamo anche questo qua tutto collegato questo non ci serve più andiamo a collegare questi con il crescent hammer e dovremmo essere a cavallo damn let's go come vedete ora la lava inizia ad arrivare anche lì forse non è la migliore delle idee perché si riempie prima quello perché è più vicino no non è vero il fatto sta che noi giriamo tanta lava quindi qua piano piano si riempirà abbiamo già 8 secchielli 10 secchielli questo è vuoto vuoto purtroppo su questi pressurize conduit non si possono mettere il round roaming come con gli oggetti altrimenti potremmo mettere un po' di liquido dappertutto e basta però vedete qua ci sono già 30 secchielli 20 secchielli qua si riempirà in un battibaleno ora andiamo a creare delle conduit facade ne abbiamo già 7 pronte addirittura però non sa che non basteranno 7 invece sì 1,2,3,4,5 e il resto viene da sé in tutto questo la mia termina botola a 21 minuti quindi se io faccio così questo inizierà a produrre più lava giusto? se clicco più volte arriva a un livello tipo massimo guardate questo è il livello massimo per cui ho usato 15 minuti di tempo sono abbastanza sicuro se è il livello massimo e in teoria dovrei produrre una quantità di lava incredibile guarda quanto va più veloce rispetto agli altri cioè è overpowered sta producendo un botto di lava non so quanta di preciso ma si parla di almeno un secchietto non voglio dire al secondo ma quasi rispetto a queste che invece vanno a velocità standard cioè standard hanno comunque sotto il draconium block quindi vanno super veloci perché è al 120% cioè al 120x però insomma hai capito cosa intendo ora il vero dubbio esistenziale è il seguente c'è un modo per accedare il time in a bottle per prendere più tempo c'è tipo una stanza dello spedito del tempo in cui posso entrare il tempo va più veloce anche per me il time in a bottle viene preso o si basa sull'orologio di sistema niente ragazzi per questo video è tutto io aspetterò che qua si venga tutto quanto così viene davvero davvero figo e niente noi ci vediamo prossimamente domani anzi alle 7 sul canale con la nuova serie delle 7 il nuovo video io vi saluto e niente ciao a turuturututti ciao a tutti